Dai, metti l'angolino! Amano tutti essere fotografati con la famiglia. Eh, tutti proprio. Qua? Io qua. Gis! R'alzato! Ah! Siete? Ma ieri, tutti giù! Giù! Siamo bene lì? Guardate! Ma se sembrate dei nani, dai! Guarda, 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 guarda! Ma scusa, dai! No, ma un po' di sediaità, non dirci, non tenere. No, ma è giro! E' danza nel vento, dai! No, capito, la persona che gli arriva al tavolo qua non sta bene, però. Sì, come si vedeva la mano? Ma continua! Non lo so, io, facciamo la torta! Sì, facciamo la torta! Non lo so. No, aspetta che... Una volta! Ma se ci prendevamo tre sedi? Ma magari... Ma siamo più di incuri nelle fette. Allora... E poi continua... C'è il riflesso dietro, ma che... Ma io sappia spostare... Ma se passiamo di là, noi... Ma non lo vengono... Non mangiamo alla stessa volta, io prima. Tiriamo le tende! Sì, tira le tende! Ma non è caldo! È in Venezia! Tiriamo le tende, magari! In check sul legno! Ah, che guarda! C'è la luce proprio... Va bene, va bene, salere un po' di... Dai, facciamo lo sfondo dei fotocani! Ciao!